Avremmo preferito una situazione più tranquilla, però siccome la macchina sta andando avanti quindi ne prendiamo atto. Ognuno, come ho detto prima, è responsabile delle proprie azioni, valuta quelle che sono le proprie azioni, risponde delle proprie azioni, però io sono nella condizione di dover aspettare. Voi vi aspettereste un giudizio, ma non ve lo do.